L'estorsione un tempo era da Gregari e stavamo i commercianti per qualche soldo. Ma ora la posta è più alta. Lo sai, trovi un negozietto e dai una ripassata al proprietario. Ti darà quello che può. Non sarà molto, ma ogni dollaro conta. Ma ora viene il bello. Ogni posto è anche una copertura. Con la copertura ricicli il denaro del racket. E ognuna ti fornisce un bonus alle entrate complessive. I commercianti ci stanno se fai pressione. Sbattili contro il muro o sfondagli la vetrina. Puoi sfasciargli il negozio o pestare i clienti. Devi fargli capire chi comanda. Ma ricorda, sono solo affari. Anfeita ma ricorda, è la prima coperta. Anfeita ma reconterà. Aperto va? Che Fin improved? Grazie a tutti